Braccianti agricoli stranieri impiegati nelle campagne della provincia nissena, pagati 4 euro l'ore e anche tassati perché sui loro salari dovevano gravare il costo del trasporto verso i luoghi di lavoro e la manutenzione dei veicoli. E anche turni di durata superiore a quella prevista dalla legge. Niente riposo, ferie, diritto alla malattia e a volte gli operai dovevano pure lavorare di domenica. Un quadro di sfruttamento quasi totale quello che emerge dall'inchiesta della Digos di Caltanissetta su un presunto giro di caporalato messo a nudo dagli investigatori della Questura, che stamattina hanno arrestato 10 persone, collocandone due in carcere e 8 agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Caltanissetta. I riflettori di magistrati e investigatori si sono puntati principalmente sul gruppo di stranieri accusati di far parte di un'organizzazione che reclutava, secondo l'accusa, mano d'opera straniera, soprattutto marocchini, per sfruttarne l'impiego in campagna. Ma nel calderone dell'inchiesta ci sono anche proprietari terrieri e imprenditori agricoli delle province di Caltanissetta e Grigento, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in quanto avrebbero utilizzato, assunto e impiegato i braccianti stranieri reclutati dalla presunta organizzazione criminale, sottoponendoli continuamente a condizioni di lavoro lesive della dignità, della sicurezza e della salute, approfittando del loro stato di bisogno. E nel novero delle accuse non mancano nemmeno violazioni della normativa in materia di sicurezza, in quanto raramente i lavoratori indossavano i dispositivi di protezione. Discorso simile per il rispetto delle norme igieniche sui luoghi di lavoro, in particolare sui controlli sanitari per i conducenti dei camion, a cui si aggiungono presunte mancanze della revisione dei mezzi di trasporto e persino la sottoposizione a metodi di sorveglianza. Nel corso delle indagini della DIGOS è emerso che gli stranieri reclutati avrebbero percepito per una media di 8-9 ore di lavoro un salario di circa 30-35 euro per ogni giornata lavorativa, ulteriormente decurtato di circa 5-10 euro per la tassazione imposta dagli autisti. E poi controlli quasi a vista da parte dei presunti sfruttatori, sempre con la spada di Damocle della minaccia di non essere più impiegati qualora non avessero svolto ad arte il lavoro di volta in volta assegnato. Sono diversi gli episodi registrati in cui alcuni operai, nonostante avessero manifestato malesseri o serie necessità familiari durante la giornata lavorativa, sarebbero stati costretti a rimanere sul luogo di lavoro fino alla fine della giornata e a riprendere l'attività, pena minacciata esplicitamente della perdita di ogni futura opportunità lavorativa. Non è la prima inchiesta sul caporalato che interessa il territorio nisseno. Due anni fa un'altra indagine aveva coinvolto un gruppo di pakistani, molti dei quali sono adesso sottoprocesso e quella vicenda aveva registrato la tragica appendice dell'omicidio del giovane del Pakistan Adnan Siddique, colpevole di aver aiutato alcuni connazionali a denunciare lo sfruttamento subito.